Attraverso l'oceano e il genere, scoprendo ciò che non si conosce. Vladimir Luxuri ha scelto questo titolo per il suo intervento in occasione del ciclo di appuntamenti che la Syracuse University ha dedicato ad Amerigo Vespucci. Un esploratore dell'ignoto, come tanti personaggi del presente che sfida nei pregiudizi della società. Un esempio su tutti, Oscar Pistorius. Siccome me, che sono nata in un corpo maschile, ma per questo non ho smesso di sognare di diventare donna, apprezzo il coraggio delle persone che, non nonostante, ma grazie alle gambe di Oscar Pistorius, lui oggi è un grande campione di corsa. L'Alexio è avvenuto davanti a studenti americani, una platea più predisposta di quella italiana, soprattutto quando si parla di diritti civili. Sentire un discorso introduttivo da parte della presidente della Syracuse University, della console americana, in cui si parla di pregiudizio, di omofobia, di pari opportunità, per tutti, dell'accettazione della diversità all'interno dell'università, è qualcosa che predispone bene sicuramente. Le primarie si avvicinano e una domanda sulle preferenze è d'obbligo. Se proprio devo appoggiarne uno, appoggio la persona che, sulla questione dei diritti civili e del matrimonio per tutti e di farci sentire uguali agli altri, ha detto le parole più chiare, cioè Nichi Vendola. Perché, anche se apprezzo l'avvicinamento che fanno Bersani, che parla di una legge alla tedesca, oppure di Renzi, che parla di una legge all'inglese, però, insomma, la persona che ha pronunciato il nome matrimonio, che ha posto anche la questione della genitorialità, è l'unico che è stato Vendola. E quindi io lo appoggio per questo motivo. Grazie.